pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati solennità dell'ascensione al cielo di nostro signore gesù cristo un mistero profondo che completa la pasqua di gesù ma che significa cosa può dire alla nostra vita tra le tante piste possibili io vi offro tre semplici punti che cogliamo dal vangelo secondo matteo che di per sé non descrive l'ascensione quella è descritta diciamo così da luca negli atti primo punto l'ascensione non è la festa dell'assenza ma l'inizio di una nuova presenza gesù risorto convoca i suoi discepoli su un monte in galilea e dice loro a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra cioè è stato reso pienamente partecipe dal padre della sua potestà della sua regalità della sua signoria e questo potere lo esercita in cielo e anche sulla terra quindi vedete gesù continua a essere presente ed esercita il suo potere e quale questo potere è il potere di salvare l'uomo di riconciliarlo con sé di togliere di mezzo il peccato che rende schiavi di ricreare la nostra vita io faccio nuove tutte le cose ha detto gesù e fa veramente nuova la vita di coloro che realmente lo accolgono e si decidono a seguirlo il suo potere e orientare in modo nuovo la nostra vita perché sia vissuta secondo la sua parola cioè secondo l'amore vero dunque miei cari gesù continua a rendersi presente a operare in mezzo a noi mentre prima essendo uomo poteva essere vicino solo ad alcuni in un punto preciso ora essendo glorificato in dio può essere vicino a tutti ascoltare tutti venire in soccorso di tutti per mezzo dello spirito santo che lo rende presente noi ci potremmo chiedere ma non sarebbe stato più facile se lui fosse stato sempre visibile la risposta potrebbe essere sì sarebbe stato più facile ma per dio la nostra libertà è sacra se lui fosse stato sempre visibile noi non saremmo stati liberi e soprattutto non ci saremmo messi in gioco avremmo delegato tutto ecco perché secondo punto lui ascende per mandarci subito dopo dice ai suoi discepoli andate dunque e fate discepole tutte le genti battezzandole nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo e insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho detto ecco qui il mandato della chiesa a cui gesù chiede di proseguire la sua opera a cui gesù potremmo dire consegna questo potere salvifico manda tutti noi ad evangelizzare a battezzare insegnare a celebrare a maestrare a immergere in dio e a insegnare a vivere da figli di dio questo è molto bello miei cari vedete l'ascensione ci dice che gesù ci fa spazio dio fa un passo indietro per fare spazio a noi l'amore vero e l'amore di chi accoglie l'altro si dona perché l'altro sia senza sostituirsi all'altro rendendo protagonista l'altro un bravo genitore non è ad esempio colui che fa tutto al posto del figlio ci sono genitori che con i figli grandi ancora gli fanno i compiti perché non sfigurino oppure che pianificano tutto le loro attività il loro programma di studio quello che devono fare questo non è un amore ordinato sarà anche mosso dall'amore ma è una relazione che soffoca l'altro e non lo fa maturare non lo fa sbocciare l'amore vero è quello di chi si dona per l'altro cercando di mettere l'altro in condizione di affrontare le sfide della vita di renderlo cioè responsabile ecco l'ascensione ci parla di un amore grande da parte del signore che non vuol fare tutto da solo ma vuol servirsi di noi di te dice un belladaggio cristo non ha che le tue labbra per poter parlare non ha che le tue mani per poter accarezzare non ha che i tuoi piedi per camminare incontro agli altri ora miei cari abbiamo detto che dunque l'ascensione segna l'invio della chiesa l'avvio della sua missione che partirà però soltanto dopo la pentecoste dopo aver ricevuto lo spirito santo vedete questo ci dice un'altra cosa importante che gesù con la sua assenza visibile crea un vuoto c'è un distacco questo vuoto è proprio il luogo dove si manifesterà lo spirito santo che permetterà di vivere una relazione diversa più profonda interiorizzata spirituale con il signore questo è molto importante vedete la vita cresce attraverso una serie di distacchi pensate già alla nascita per poter vivere dopo i nove mesi deve distaccarsi dal corpo della madre così pian piano lo svezzamento poi l'adolescenza dove il giovane dovrà imparare a distaccarsi in un modo sano dai genitori per spiccare poi il suo volo nell'età adulta anche il lutto stesso ad esempio dei genitori è un distacco doloroso che segna per così dire un definitivo passaggio di testimone noi abbiamo paura dei distacchi e noi abbiamo paura dei vuoti eppure è proprio grazie ad essi che noi possiamo crescere noi abbiamo paura del vuoto che a volte sperimentiamo quando non percepiamo la presenza di gesù vorremmo vedere vorremmo toccare vorremmo aggrapparci a qualcosa per questo siamo così vulnerabili su questo punto e corriamo facilmente appresso a santoni a presunti visionari a ipotetici veggenti che ci diano qualche conferma che ci dicano che si vede qualcosa ma vedete quel vuoto è il luogo dello spirito è il luogo dove accogliere la sua presenza ed esercitare la nostra fiducia perché così liberamente noi possiamo crescere nell'unione con dio e nel dono di noi stessi vi do un'immagine semplice pensate ad un bambino che inizia a camminare quando il bambino inizia a muovere i primissimi passi solitamente il papà o la mamma gli tengono le manine e il bambino va tranquillo perché è tenuto per mano quando però è ora di andare da solo il papà o la mamma cosa fanno una cosa che il bambino lì per lì sicuramente non capisce gli lasciano le manine e il bambino si ritrova barcollante in piedi fermo e sperimenta un vuoto ma dall'altra parte quel vuoto diventa il luogo dove può tirar fuori quella capacità che potenzialmente ha e attenti il papà o la mamma non sono assenti spesso gli stanno o di fronte invitandolo ad andare o dietro a mani larghe pronti a soccorrerlo in caso di caduta è un'immagine molto bella di ciò che fa il signore nella nostra vita e in fondo anche con l'ascensione lui ci sta davanti e ci invita a camminare nel contempo ci segue amorevolmente e nel frattempo interiormente ci dà la grazia di tirar fuori quelle capacità belle che ha seminato nel nostro cuore ma lo ripeto tutto questo senza sostituirsi a noi sant'agostino diceva colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te infine miei cari e concludo il terzo punto bellissimo che dunque ci lascia l'ascensione al cielo di gesù è condensato nell'ultima sua frase ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo è una formula bellissima che tra l'altro richiama l'inizio del vangelo gesù è stato presentato come l'emmanuele il dio con noi ecco perché i discepoli negli atti degli apostoli dopo aver contemplato il signore a scendere al cielo tornano al tempio pieni di gioia perché perché hanno capito che gesù sarà sempre con loro che gesù sarà sempre presente nella sua chiesa la nostra gioia è sapere che noi non siamo soli che la nostra vita appartiene a lui che siamo suoi che siamo impressi sul palmo delle sue mani che porta il nostro nome scritto nel suo cuore ricordo una persona a noi cara che sta attraversando una malattia molto seria ripetere più volte io non mi sento solo so di non esserlo e sono sereno pensando la malattia che sta vivendo sono parole che continuano a toccarmi il cuore vedere come il signore opera nella vita di chi lo segue cari fratelli e sorelle ecco l'augurio che ci lasciamo che la solennità dell'ascensione possa riaccenderci il cuore certi dell'amorevole presenza del signore chissà forse in tanti momenti della vita ti è sembrato o ti sta sembrando che dio sia assente lontano che ti abbia abbandonato ricordalo non sei solo non sei sola proprio lì egli ti sta offrendo il suo spirito proprio lì ti sta chiedendo fiducia proprio lì vuol aiutarti a crescere come una madre che non lascia il suo bambino ma lo mette in condizione di camminare per diventare adulto così fa il signore per aiutarti a diventare santo ed essere segno e strumento della sua presenza nel mondo dunque fidati ne vale la pena che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti